È solo un tamponare e basta, senza vedere i risultati effettivi. Quindi abbiamo, come mai, prima d'oro, come adesso, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di tutte le situazioni che tirano la mano. Noi, la nostra parte, la faremo di sicuro. Stiamo facendo dei piani di lavoro per l'inverno, perché si spera che l'inverno, almeno questo branco, si calmi. Quindi sarà cambiato totalmente la maniera di lavorare. Però abbiamo bisogno di voi. Perché veramente abbiamo, cioè, vedo i miei pescatori, i miei soci e tutti i soci, che siamo tutti i soci su piano, e vedo molto, molto, molto a terra. Non so più o più se ci sarà un domani. Si parla di dicembre, secondo me non si arriverà sicuramente dicembre. Già ad ottobre dovremmo fare delle decisioni drastiche, come ha detto bene il nostro Presidente, quindi grazie. Lo so che non riuscite a darci subito le risposte, ma almeno proviamoci. Grazie.